Grazie a tutti. L'ha conosciuto, l'ha conosciuto sì, però mio padre è nato nel 1943, mentre Giovanni muore nel 1946. I ricordi di Giovanni e quello che è stato il mio scavo di questa ricerca sono legati in particolar modo ai ricordi di mia zia 92enne e delle mie due cugine, Grazie Emanuele, figlie della sorella di Giovanni. Quello che io presento in questo momento è un lavoro, una ricerca che è nata all'interno del Master di Public History di Modena e Germania. Che cos'è la Public History? Per assumerla velocemente, uno da comprenderci anche sul lavoro che io ho svolto in qualche misura, la Public History è tutto ciò che si occupa della storia, della divulgazione della storia, tra non accademici. Quindi tra coloro che non si occupano di storia come professione. Ecco che poi spiegherò più avanti tutto questo. Allora, il titolo del, diciamo così, di questa relazione è Rappuntare per immagini, deportate a Montausen 43-45 di Giovanni Plano Pesque, 1946, anno di edizione, progetto per non riscoprire il redattore, sono io, di zia, lo che capicò. Allora, l'ho già detto di questa ricerca che è nata all'interno del Master di Public History, per me è significato innanzitutto una donna conoscenza, da una parte una conoscenza familiare, uno scavo della memoria a 30 anni dalla morte, diciamo a 50 anni dalla morte, a 70 anni scusate, dalla morte di Giovanni. E, d'altro canto, ha significato anche un'esplorazione in quella che era la memoria pubblica, ossia ciò che è rimasto di Giovanni Plano Pesque. Il tentativo, come pubblico storico, quindi, era quello di rendere, in qualche di far conoscere, una rivalorizzazione della testimonianza di Giovanni. Allora, cercherò di essere spiegato laddove è necessario di non dilutarmi per mostrarvi, ecco qua, la mia occasione, diciamo, e ciò che mi onora in questo momento, essere in questa sede, ringrazio l'Anerzia di Milano, anche l'Anerzia di Torino, in particolar modo il professor Lucio Monaco, e la possibilità di far conoscere un libro che è conosciuto tra gli esperti, ma è un libro che non ha avuto una divulgazione tra coloro che, appunto, non sono nuovi esperti. Allora, questa è l'edizione originale, quella di gennaio 1946, la prima pubblicazione di 30x20, 30 di base, 20 cm per lunghezza, ed è stata disegnata su Sanguigna. Dico disegnata, poi ritornerò su questo. La seconda pubblicazione nel 1979 della provincia di Torino, e infine la terza pubblicazione, la quale io ho attinto, diciamo così, della mia ricerca, per quanto riguarda l'indicazione, è quella pubblicata nel 2007 da Tipaldi, che credo che tutti voi conosciate come ricercatore storico, che è come deportato, nonché, lo aggiungo subito, nello stesso convoglio nel quale è stato deportato Giovanni. Il trasporto è il numero 18, la tecnologia è indicata da Tipaldi. Poi abbiamo un autore che si occupa comunque di grafica, e naturalmente il vicepresidente del Ane Lucio Monaco, che è stato, diciamo, lui ha fatto una grandissima ricostruzione biografica e anche una contestualizzazione memorialistica. Io ringrazio, in primo luogo, anche il professor Lucio Monaco, perché ha trovato, diciamo così, ha trovato in lui qualcuno che ha riscoperto le tavole di mio cugino e ha anche saputo utilizzarle nella vita quotidiana, nella vita professionale. Il dottor Lucio Monaco è un professore e ha utilizzato nella sua attività didattica le tavole di Giovanni. Adesso vedremo anche il perché. Le fonti di questa memorialistica sono eterogenee, riprendo. C'è una parte che riguarda la biografia morale, c'è un'altra parte che riguarda invece tutto ciò che è possibile ricavare dalla memorialistica. Di Giovanni si conosce poco. Si conosce poco per quanto riguarda, in particolar modo, ciò che precede la deportazione e anche il periodo dell'internamento. Allora, queste sono in margine della famiglia di Giovanni, quella più vicina su Cavallucci, naturalmente Giovanni. Abbiamo il padre, il padre e la mamma, e mostro un biglietto da visita, che era il biglietto da visita dei genitori. Quindi i genitori erano dei semplici commercianti della mia zona di Cilieca. Per chi non sa dove ci viene, è in provincia di Torino, vicino all'arubbordo di Caselle. Si trasferiranno a Torino e, ecco qua, è importante, questa è la formazione di Giovanni. Dal 1932 al 1937 lui avrà la formazione professionale e uscirà a Ibanista. Quindi scultore in legno. Questo è Giovanni a Milità, a Casale Monferrato. La seconda guerra mondiale lo metterà impegnando prima sul fronte occidentale in Francia, poi in Cirenanca, dove si ammalerà per l'arbo gelato. Ecco, c'è anche una lettra, questa è della memoria familiare, una lettra appunto che è stata spedita a mia zia Aurora, con la quale mio cugino era particolarmente legato. Vado su questa, questa è quella del 8 settembre, insomma, quella dell'arbistizio, quella della Stapa annuncia la guerra finita. In realtà non sappiamo che in Italia non andò così, si ebbe anzi una guerra civile e in questa, inizio già a mostrarvi il libro di Giovanni, che è un libro che ha testo scritto più disegni. In questa parte Giovanni rappresenta il suo arresto e facilmente riconoscibile, come indicato molto correttamente Luigi Monaco, nell'uomo vicino alla cartellina, con molto elegante, era molto elegante, e questo ci rimanda da questa biografia famigliarica, vicino alla cartellina nella quale mi è un cipro stilato. E il grido di Spartaco, infatti, Giovanni è nelle prime, quelle che si stanno formando, formazioni comuniste, all'interno dei partigiani di Torino, all'ottobre del 1943. Lui verrà restato 17 ottobre 1943, probabilmente a causa di un'anelazione durante un'azione di sabotaggio, e nella formazione di Luigi Capriolo, eroe della liberazione. Io procederei più avanti, vi scriverò il testo. Ciò che è stato importante in questa ricerca per me è stata anche la ricostruzione del percorso all'interno del lager. Qui abbiamo l'International Tracing Service, che ci racconta appunto i passaggi che ci sono stati di Giovanni all'interno dell'area, dell'area di Matao e poi dei vari sottocampi. Giovanni è stato soprattutto a Edenzee, e lui ci racconterà soprattutto nelle tavole e nel testo scritto la vicenda di Edenzee. Queste carte che presento le ho avuto sempre dal International Tracing Service di Arolsen. ci sono nella parte piccola, quella diciamo in fotocopia, i passaggi indicati alla mano. Mi ha colpito molto di questa parte, la dove appunto in questa logica tedesca di raccogliere l'informazione c'è una parte dove indica i denti e dice io non lo so, diciamo, il tedesco, e quindi scusatevi, Zane dice, c'è uno mancante. A me è ascioccato questa cosa, pensare che appena arrivati a, ma questo fa parte della logica comunque, teutonica, appena arrivati a Quartal, se mi sono in tutte le maniere misurati, e diciamo così, tutti i loro dati mi sono presi, anche in questa maniera più specifica. vado veloce con la sua biografia, Giovanni Ritorna, e tra quelli liberati alle 6 di maggio del 46, Ritorna e il sanatorio, questa è la parte importante di Torino, il sanatorio di Torino, ancora debilitato, lui scrive e disegna deportati a Martansi nel 1943-45. E' importante segnalare che, non sa, abbiamo sentito prima la testimonianza nella quale si diceva la difficoltà di raccontare quello che c'è dopo. Ecco, Giovanni sceglie, sceglie proprio come urgenza del testimoniare, per prendere testimonianza a quei, diciamo, comparmi morti, di raccontare la sua vicenda. E sceglie un modo molto particolare, ma non solo. Lui si impegna anche attivamente tra i fondatori di quella che sarà in futuro l'Associazione Nazionale Ex Deportati, i 15 primatari. Allora, purtroppo, a causa della debilitazione fisica conseguente all'area, di debilitazione psicologica, che al 24 maggio del 1946, Giovanni si spegne in ospedale. Il suo corpo oggi riposa nel museo monumentale di Torino. Alcuni mesi dopo gli sono dedicato un convinto, che fa parte dei convinti della rinascita. Tutta una parte d'aprile sarebbe molto interessante, naturalmente non è in questo momento, su ciò che hanno rappresentato i convinti in quel periodo. E viene dedicato a questo convinto. Allora, il mio lavoro qua è stato, vado velocissimo su questa parte, è stato anche un lavoro di scoprire qual era la memorialistica Cueva, in particolare, un lavoro tutto da finire, però in particolare quella memorialistica Cueva che aveva utilizzato i disegni e il testo. Adesso non entro in questo, perché non abbiamo tempo, ma ne prendo, soprattutto in questo momento, farvi conoscere meglio il testo di Giovanni. Comunque, i topos ricorrenti, i somme di questo c'è anche Giovanni in queste prime pubblicazioni che escono tra 1945 e 1947, la volontà di portare la testimonianza, l'impegno della giustizia verso morti e naturalmente la difesa della libertà. Nessuno si propone dei fini letterari specifici se non quelli della testimonianza. Io ho voluto in questa analisi, sto andando velocissimo su questa parte perché vorrei dedicare il tempo all'età. Comunque, questa analisi mi ha permesso di analizzare altri autori che hanno utilizzato lo stesso tipo di testimonianza. In particolar modo che sono due, sono francesi entrambi, Bernard Aldebert e i disegni di Daniel di Cheo di Renne. Però esce quello di Adrienne ad esempio nel 67, mentre quello di Bernard Aldebert ha il stesso discorso nel 46. Allora, quello che mi prego di sottolineare prima di vedere con voi le tavole di Giovanni è che ciascun autore porta la sua sensibilità e anche ciò che è stata la sua professione precedente. Ho analizzato prima il fatto che Giovanni porti con sé il fatto di essere un ebanista proprio perché lui avrà un cura particolare nei dettagli. Aldebert invece finisce nell'Ager a causa dell'abiniente essendo un caricaturista eccetera costruisce più episodi e più interessato è il primo piano far vedere il volto. Invece Giovanni farà una scelta molto diversa e adesso la vedremo assieme. Allora, Giovanni sceglie innanzitutto di costruire il testo tra scritto e disegnato. Scegli un testo nel quale c'è il testo, il disegno e le didascalie. In più ci sono ancora all'interno del testo quelli che sono chiamati marcatori grafici o ad esempio punti estremativi maiuscole e futbolette che servono a dare un sovrasenso. Questa è la preparazione del libro. Ne leggo soltanto un pezzo perché edili che in qualche misura sono anche in altre distanze per quella che può essere una produzione e una riproposizione del libro di Giovanni. Per questo io che sono uno dei 130 sui 2000 deportati politici polinesi ritornato fortunatamente vivo dal campo di concentramento degli internati politici a Mauthausen nel canto di toletto del sanatorio ho tracciato questi schizzi quantunque l'animo mio rifugisse da rivire sia pure per un attimo il nostro calvario iniziatosi per me con l'arresto eccetera. Quindi in questa parte vi è proprio l'urgenza della testimonianza di documentare faccio notare subito perché non so se dopo un tempo comunque quello che vi dicevo prima di questi marcatori grafici vedete che ad esempio Mauthausen è tenuto in paio proprio per accentuare per mettere una maggiore enfasi è interessante vedere cosa fa lui lo faranno molti altri a questa memorialistica che comunque io ho visto firmarsi con il numero di internamento in questo caso è di 42 di 174 sottolineo con un'altra parte Giovanni sceglie una scelta diversa da molti altri non sceglie di fare una testimonianza autobiografica bensì di raccontare attraverso l'utilizzo della terza persona singolite plurale il loro lui racconta il loro non racconta il loro non è una testimonianza autobiografica bensì coragge e collettiva cerca di fare una testimonianza un documento adesso lo vedrete normalmente l'impressione di un deportato è l'indice praticamente di Giovanni che va in Italia in estrellamento diciamo così dall'arresto per giungere al momento della liberazione lui lo chiamerà liberazione giustizia e dopo vi farò vedere il perché questa tabula rappresenta le torture attenute all'albergo nazionale di Torino in mano alla polizia repubblicina diciamo questo termine e si vedono chiaramente subito le linee cinetiche le linee di forza vedete che i colpi hanno queste linee cinetiche costruite a modo di fumetto in qualche misura questo tipo di scritto fa parte delle illustrazioni che erano allora militari come fa parte anche quel linguaggio che utilizza lui è un linguaggio retorico che è figlio diciamo di quella cultura nata durante il fascismo ma fa parte anche di quella prima pubblicistica presente in Italia e i nuovi partiti politici che si vengono a costituire dopo il 1940 i soggetti sono diversi che si riscontrano anche nell'altra memorialistica all'arresto le torture la deportazione le nuove per armi l'area la quotidianità il lavoro eccetera questa tabula che vi faccio vedere io ho messo vedete ho messo nella slide l'affollamento perché la scelta di Giovanni è proprio quella di riempire la tavola sono degli schizzi degli abbozzi ma sono degli schizzi degli abbozzi in mondo precisi andando a su umana come si dice a ingrattire in particolare si può vedere che vi è all'interno una narrazione adesso vi farò vedere allora questa è la parte una narrazione che è inserita non solo con i dettagli in particolare all'interno delle tavole ma anche disponendo le tavole in sequenza una dietro l'altra a modo di racconto proprio queste sono le gallerie di Ebensee adesso vi faccio vedere i particolari speriamo che si vedano questo è un ingrandimento come vedete dei particolari ciascun particolare vado veloce così vi faccio vedere ciascun anche la galleria porta comunque dei particolari fa vedere gli uomini che lavorano si entrava veramente zoomare questa è la scania questi sono altri particolari mi soffrego solo più su questo su quello dove in un piccolo in un particolare fanno vedere addirittura dove viene mostrato il numero per ottenere il peso di pane allora se avete ancora tempo due minuti spero di non risultare antipatico per questi due minuti ma volevo farvi vedere un piccolo video in modo che stia Giovanni stesso a raccontare io ho parlato abbastanza è un attimo solo allora è uno video di due minuti che è costruito a partire dalla quarantena per giungere alla liberazione attraverso le tavole di Giovanni io semplicemente fatto con un'applicazione di grandito quello che mi premeva vedere proprio come parte di storia era la capacità di divulgazione di questo di questo testo lascerei proprio le parole e le immagini a questo punto a Giovanni a Giovanni a Giovanni a Giovanni a Giovanni Grazie. 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 Grazie.